Ciao ragazzi da Grolollo204 e benvenuti in un nuovo video di Farming Simulator serie Outbellron Primavera, tempo di semine, quindi che cosa sto facendo qui? I miei lavori, qui sto seminando, cosa stavo seminando? Ah il mais, il mais, il mais stavo seminando Poi quest'altro campo di là ho seminato le patate Poi, qui che cosa ho seminato? Ah non ho seminato niente qua, eh qua pensavo di metterci o barbabetone da zucchero o fare un altro arboreto Però, come arboreto, andiamo qui No, dov'è che era? Ah tra l'altro qui stavo finendo il tizio di fare, a quanto pare ha finito di seminare dell'avena Ok, questo è il mio nuovo trattore, non fate caso Sì, tanto criticatemi ma mi serviva un trattore più piccolo e ho deciso di prendere un Kubota Visto che non ne ho neanche uno, qua ho deciso di prendermelo Qui abbiamo il 180-90 con la pianta patate, tra l'altro guardate che mostro con le ruote gemellate dietro Allora, il campo dove devo fare si trova esattamente... no, qua no... si trova... ecco qua Dove ho lasciato la pala gommata e qui che cos'è che andiamo a fare oggi? Andiamo... a... eh... dov'è qua? Andiamo... andiamo signori a piantarci un vigneto A piantarci un vigneto? Avete capito bene? Un vigneto Quindi andiamo dove dobbiamo andare? Dov'è che si va? Ehm... oddio, si andava... eh... no, dov'è? Ah, qui? Costruzione Ehm... vigneto... allora... produzione Produzione Frutteti Allora, dov'è? Vino... allora, qui abbiamo la vite Qui abbiamo... con un metro e otto di fila di distanza Mettiamo questa, dai Distanza insufficiente Ok, partiamo a mettere tutto questo L'unica cosa, ragazzi, sarà... regolare la distanza del filare A naso così mi sembra abbastanza allineata Ok, così, penso Perché così... eh... si è autoregolata, mi sembra Ah... ah, però cacchio... che spazio ho lasciato qua? Ehm... adesso lo chiudiamo così Perfetto Perfetto, perché ragazzi vorrei evitare di creare problemi Nel senso che creo fallanze, cose così che Assolutamente non me lo posso permettere Ok Così Yeah Yeah, 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 ragazzi Yeah L'ho allineato bene Come vedete lo sto facendo anche un po' obbliguo Così Speriamo Che finisca tutto bene Adesso direi che mi mancano altre... un altro paio di file Direi che... ci vediamo dopo quando l'ho fatto Perché così magari lo iniziamo anche a preparare Anzi Prima direi che ci occupiamo anche di altri campi E poi di questo ve lo farò vedere poi prossimamente Ciao a tutti E poi... ci vediamo E poi... ci vediamo E poi... ci vediamo E poi... ci vediamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.